Uno dei sintomi più frequenti che viene descritto dai miei pazienti quando parlano di cervicale è il cosiddetto scricchiolio al collo. Vediamo di che cosa si tratta. Cominciamo quindi a sfadare un primo mito. Non esiste alcuna sabbiolina all'interno del collo. Il tratto cervicale è una struttura complessa, composta da sette vertebre cervicali che vengono mosse da una serie di muscoli e tutte queste strutture devono lavorare in maniera assolutamente coordinata per offrire un movimento corretto. Quando si ha la disfunzione di uno o più strutture di chi che compongono la cervicale ecco che compare il cosiddetto scricchiolio. Generalmente il movimento che provoca il cosiddetto scricchiolio è quello di estensione e rotazione del collo inizialmente con soltanto un fastidio, poi un dolorino, fino ad arrivare al vero e proprio dolore che porterà alla creazione anche nelle fasi avanzate e soprattutto in tardetà della cosiddetta artrosi un consumo eccessivo della superficie articolare che determina quindi dolore e limitazione articolare. Il primo passo da fare è quello di eseguire un RX che mostrerà la comparsa di artrosi cervicale nei casi avanzati oppure mostrerà una condizione generale di sofferenza di quelle che sono le strutture articolari. Il compito del fisioterapista sarà quindi valutare il corretto movimento e analizzare quali sono le strutture in disfunzione andando a riequilibrare la condizione mediante magari una manipolazione cervicale oppure eseguendo una serie di esercizi che porteranno il comparto cervicale a lavorare in una condizione migliore. Anche se all'inizio lo scricchiolio è soltanto un sintomo, varrebbe la pena affrontare il problema in maniera precoce in quanto andando avanti con l'età si verrà a creare appunto questa condizione di artrosi e quindi una condizione che avrà dei risultati anche terapeutici molto più complessi. Quindi prima la trattiamo e meglio è. Sarà fondamentale una corretta rieducazione posturale e soprattutto una buona educazione al movimento mediante una serie di esercizi che dovranno essere eseguiti dal paziente. Spero che questo video sia stato utile a capire che cos'è uno scricchiolio al collo e soprattutto ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube ed eventualmente condividerlo sui social network. Ti aspetto al prossimo video!